Dovrebbe essere tutto pronto agli ordini dello starter. Partiti. Davanti ad andatura molto modesta, va Pinky Guy. All'interno Yes We Can, all'esterno Love Kisses Cape Baba, allargo in rosa di bianco e nero in coda Walk With Me. Senza strappi, senza grossa fatica, Pinky Guy si ritrova davanti. Yes We Can, Cape Baba e Love Kisses a tiro, largo bianco e nero in coda a tiro Walk With Me. E allora Pinky Guy precede Cape Baba che riesce a scendere in corda, all'esterno bianco e nero che non ha avuto fortuna nella prima parte di gara, nel senso che ha bisogno di un'andatura e non c'è stata. Quarto è Love Kisses che precede Yes We Can in coda Walk With Me. accelerazione all'uscita del bosco con bianco e nero che va su Pinky Guy che accelera. Poi Cape Baba con all'esterno Love Kisses, Yes We Can e quinto in coda Walk With Me. Pinky Guy prova a reggere la bordata di bianco e nero prima dell'intersezione delle piste. Allunca Pinky Guy da Cape Baba, bianco e nero all'esterno Love Kisses, poi Yes We Can, addirittura Love Kisses che fatica ad accurvare, nel senso che cambia azione. Allora Pinky Guy prova a accelerare, da Cape Baba che è lì, poi bianco e nero Love Kisses che continua a scartare, deve cambiare il flusso al suo interprete, se lo vuol far impegnare Pinky Guy è in vantaggio, sta allungando Pinky Guy, Pinky Guy, da Cape Baba, da bianco e nero allunga tutti i Love Kisses, Pinky Guy ancora in vantaggio, Pinky Guy la forma del team, Santella Foglia, devastante nel periodo, ancora lui, Antinori a segno, secondo Cape Baba, terzo bianco e nero, quarto Yes We Can. Vittoria di Pinky Guy, il maschio baio di 5 anni, seconda vittoria consecutiva in handicap, secondo Cape Baba 4-3, terzo bianco e nero 2, quarto il 6 di Yes We Can, probabilmente perché l'uno è largo e non lo vediamo da questa inquadratura, vediamo se si riesce a vedere il quarto e il quinto, 4-3-2 e poi per il quarto 6-1 che arriva dopo, dovrebbe essere così, 4-3-2 sicuro, poi 6-1 sarà il giudice a dividerli, dovrebbero essere nell'ordine. Vittoria quindi di Pinky Guy e quindi ancora Antinori, che se li beve tutti e tutto l'irea della postazione centrale, tutto. Le vittorie sono un po' come le cilie...